Ho voluto incontrarvi per fare un po' il punto della situazione, visto che oggi è il primo giorno della nuova stagione perché iniziano i test per alcuni calciatori. Il fatto di essere arrivati più tardi degli altri ci crea qualche difficoltà, anche perché le varie controparti che incontriamo possono pensare di avere un vantaggio dal fatto che comunque una parte importante della squadra che affronterà la prossima stagione va ancora definita. Sappiamo che sarà una stagione difficile, la Serie A è molto competitiva, lo sappiamo tutti, lo so io per esperienza in primis, quindi dobbiamo attrezzare una formazione che sia in grado di competere e raggiungere quell'obiettivo che per il primo anno abbiamo fissato con la parola consolidamento della categoria. Secondo me siamo in linea con quelli che erano gli obiettivi dell'inizio, siamo consapevoli che dovremmo inserire nella rosa un numero maggiore rispetto a altri club di giocatori, però c'è tempo e dovremmo soprattutto cercare anche di rispettare i limiti economici che ci siamo fissati e di tenere presente le indicazioni dell'allenatore. Quindi sono una serie di variabili che possono allungare i tempi di costruzione della nuova squadra. Vi ho detto sempre che il budget per noi è un valore complessivo di stipendi per calciatori e spese sui trasferimenti, anzi proprio alla luce di questo e capendo le difficoltà che si possono incontrare nel dover rinnovare una rosa che sia in grado di affrontare la Serie A, e abbiamo d'accordo con l'azionista pensato di utilizzare oltre il budget che è stato fissato per quest'anno anche parzialmente quelli degli anni futuri, magari trovando delle operazioni come possono essere i prestiti condizionati al riscatto del calciatore che ci consentono di differire nel tempo alcuni impegni nei confronti degli altri club. Il Bologna e soprattutto i suoi azionisti sono intenzionati, quindi il club e gli azionisti sono intenzionati ad investire in un progetto tecnico che però sia supportato anche da una crescita dei ricavi che dovrebbe essere un obiettivo di tutti i club, quello di sviluppare i ricavi e poi rendere nel tempo autosufficiente il club. L'idea è quella di tenere i giovani, anche perché abbiamo la fortuna poi di avere in rosa anche un paio di calciatori che vengono dal settore giovanile del Bologna, quindi questo è un elemento molto positivo anche alla luce delle nuove normative, comunque per il momento non ci sono operazioni che coinvolgano giocatori in uscita. No, gli interventi allo stadio penso che poi li avete descritti tutti, riguardano principalmente le aree ospitalità per avere un'offerta ai partner diversa rispetto a quella attuale, riguardano la torre Maratona con il nuovo bar che verrà fatto sotto la torre per migliorare anche lì l'esperienza da stadio, soprattutto il post partita. Una riduzione di capienza, un sit kill come viene detto in America, che già adottano spesso questa prassi anche in occasione di ristrutturazione degli stadi, in attesa di verificare se ci sono le condizioni, comunque indipendentemente da quello che sarà il progetto di ristrutturazione e complessità dell'impianto, di verificare se ci sono le condizioni per eliminare tutto l'anello superiore costituito con Italia 90, tranne quello della parte della tribuna coperta, che rimarrà. Penso che alla fine la capienza definitiva sarà intorno ai 27, tra i 27 e i 28 mila. Noi siamo obbligati a investire più degli altri ai nostri competitors proprio perché dobbiamo costruire la base della squadra del prossimo anno, anche se abbiamo molti validi giocatori già in rosa, ma ne dobbiamo prendere più degli altri, quindi molti club partono con un vantaggio rispetto a noi. Sarà, credo, un campionato forse diverso dal passato perché le grandi stanno investendo molto, si è reperta una forte competizione per l'accesso alla Champions League, per cui faranno forse premio gli scontri diretti, per cui bisogna essere attrezzati per combattere con le nostre pari grado. Ripeto, l'anno prossimo vogliamo consolidare la presenza, il progetto è un progetto a lungo termine ma deve essere portato avanti per gradi, per cui sappiamo già che ci sarà da soffrire, cerchiamo di soffrire il meno possibile, però sarà un campionato duro come per ogni neopromosso.